Prosegue l'emergenza nelle RSA della Toscana e dopo le indicazioni della regione adesso entrano in azione le ASL che procedono al commissariamento. La gestione del piano di emergenza in 33 strutture delle 167 presenti sul territorio delle province di Firenze, Prato e Pistoia è stata presa in carico dall'azienda sanitaria Toscana Centro, mentre le altre non hanno chiesto di intervento e si stanno impegnando autonomamente a separare i pazienti covid dove siano presenti dagli altri ospiti. Dopo aver già preso in carico i pazienti positivi, come scrive la Nazione, la ASL completerà il piano di intervento che prevede, tra le altre cose, una calendarizzazione esatta di test e tamponi da effettuare in ciascuna struttura, schede riepilogative che fotografano la situazione di contagi e decessi. Per ogni struttura che ha richiesto il supporto della ASL saranno messe in campo squadre composte da un infettivologo, da un infermiere esperto e da una referente della direzione sanitaria, che si occuperanno della valutazione clinica dei pazienti, dell'aspetto organizzativo relativo agli spostamenti ritenuti necessari e della verifica del rispetto delle procedure di sicurezza attuate nella struttura. Senza voler accusare nessuno, da due settimane la ASL sta distribuendo alle residenze sanitarie per anziani e disabili i dispositivi di protezione individuale, benché questo non fosse previsto perché ciascuna struttura avrebbe dovuto provvedere autonomamente, spiega il direttore generale Paolo Morello. Al momento nelle RSA e RSD sul territorio di nostra competenza c'è la conferma data dalla tampone di 200 casi positivi sui circa 7.000 ospiti.